Buongiorno a tutti, io sono Ajuwa, cantautrice Ligure, vivo a Genova nel centro storico e questa canzone che si intitola Quella là, che ho scritto a quattro mani con Gianluca Martinelli, è stata presentata al vostro festival degli Squisy Film che hanno girato il video proprio nel cuore della città vecchia. Sono molto felice di questo perché racconta questa canzone che è un omaggio a Michela Murgia, una delle intellettuali che amo in assoluto di più. Racconta appunto lo sguardo cinico e cattivello che potrebbero avere le comari del paesino, giusto per citare Fabrizio e vuole suggerire attraverso l'ironia e la leggerezza una possibilità diversa, un'accoglienza diversa, un modo di stare al mondo diverso mi verrebbe da dire più umano. Ringrazio voi per questa occasione, ringrazio gli Squisy Film, la mia città Fabrizio De Andrè che mi fa compagnia da sempre con la sua musica e Michela Murgia a cui dedico questo lavoro. Buona visione a tutti!